In questo momento l'atteggiamento di Timmermans non è minimamente cambiato, anzi avvicinandosi a quelle che sono le scadenze anche in termini di conclusione della legislatura c'è un tentativo di accelerare tutti quelli che sono i regolamenti che da lui sono stati proposti sia per quanto riguarda il packaging, sia per quanto riguarda le emissioni in atmosfera, sia per quanto riguarda il regolamento legato ai fitosanitari. Noi riteniamo che sotto questo punto di vista bene ha fatto invece l'ambito della Commissione Agricoltura nel rigettare totalmente quelli che sono gli elementi di discussione in termini di approccio dicendo che serve più tempo per approfondire tutte le tematiche che sono ovviamente di interesse che rischiano di impattare sulla capacità produttiva nel contesto europeo. Fuori dubbio che l'Italia ne varrebbe fortemente penalizzata, proprio per questo l'incontro che abbiamo avuto ieri con tutti i componenti della Commissione Agricoltura e anche della Commissione Ambiente vedono una strategia condivisa da parte dei nostri parlamentari nel rigettare tutte le proposte. Contestualmente invece abbiamo la necessità di velocizzare su temi altrettanto strategici come l'ETI e la cisgenetica che possono diventare una risposta particolarmente significativa per quanto riguarda l'aumento della capacità produttiva nel contesto europeo e una maggior sostenibilità all'interno delle filiere nel comparto agricolo.